Due gol, prestazione importante, leadership, oramai sei una certezza di questa squadra, Franco. Grazie mille per i complimenti, mi fa piacere perché da tanto che sto lavorando si vedono risultati, quindi mi fa piacere per me come aiutare così alla squadra che oggi ha vinto. È stato un bel pescara, quindi vado a casa contento e penso che i ragazzi sono contenti. Che partita è stata, Franco? Difficile perché anche loro non è che sapevano giocare, giocavano dal basso, quindi nessuna partita in G è facile. Per fortuna l'abbiamo sbloccata subito, poi anche loro hanno fatto un gol, però per fortuna ci siamo tirati fuori più che bene. Primo gol, un cross basso di Rauti, si è arrivato a Rimorchio con l'aiuto del Palo, hai trovato la rete, l'ultimo, il secondo in pieno recupero, insomma, anche per gli applausi del pubblico, perché hai fatto una rovesciata stupenda. No, grazie, grazie mille. Dico, sono contento perché segnare più, come dico sempre, aiutare la squadra a vincere è ancora più bello, perché fai una settimana tranquilla con i ragazzi e ti dico, il lavoro che abbiamo fatto in questo messetto senza giocare si è visto oggi, per fortuna. Hai segnato dieci gol, se non erro, e all'inizio dell'anno non giocavi praticamente mai dall'inizio, è un bel bottino. Certo, certo, speriamo ancora di farne altri paio, non so quanto, ma speriamo, speriamo. Come ho sempre detto, se ho giocato dal primo minuto o dall'ultimo, se entravo era lo stesso, però bastava giocare aiutare la squadra. Soprattutto perché hai giocato 90 minuti e dal punto di vista fisico hai dimostrato anche grande continuità, perché all'inizio del campionato non avevi questa continuità. No, ti dico, ringrazio come sempre il mister, con i prof che mi hanno messo una condizione atletica perfetta dopo questo mese che, come dici lei, appena sono arrivato magari non c'avevo quei 90 minuti che ora ce l'ho e ti dico, sono contento perché il lavoro che sto facendo come gli altri dà i suoi frutti. Io do l'auricolare a Franco Ferrari, così potete fare una domanda, una da studio per il bomber biancazzurro, vi ascolta Ferrari. Fabio. Sì, no, io volevo chiedere, ciao, volevo chiederti, siccome il mister prima in conferenza un po' ti ha punzecchiato dal punto di vista della gestione della palla, che dice che stai migliorando per fare meno tocchi, su cosa state lavorando in settimana, su cosa ti pungola, perché lui dice che magari sul terzo tocco dovresti essere un po' più svelto quando poi devi scaricare, però vedo che le cose vanno bene, no? No, certo, certamente, ti dico una cosa che è una cosa che c'ha ragione, perché me lo dici sempre, purtroppo delle volte quando stoppo, vedo che sono solo, provo sempre a fare un tocco in più, ma sono fatto così, vengo da un paese che è il dribbling, giocare il più possibile è per strada, quindi per quello, però ti dico, c'ha ragione il mister, infatti tutte le settimane, no, non si litiga, si parla per bene, perché so che lui mi aiuta, sono i suoi consigli e li prendo volantieri, infatti si vede un po' il cambio che ho fatto da quando sono arrivato e da quando mi ha preso il mister. Io devo lasciare Ferrari, ho una sola curiosità, Franco, sull'1-1 nel primo tempo ti ha fischiato l'arbitro un tocco con il braccio, quando a me sembrava un calcio di rigore evidente. Anche secondo me, però, che possiamo fare? Cioè, lui mi ha spinto, sono cascato, mi ha detto, come l'altra volta qua, mano tua. Sono episodi, per fortuna, non è come prima che siamo andati avanti, abbiamo fatto gol, quindi da goderci questa vittoria. L'abbiamo visto bene. Sì, sì, sì.